beh possiamo dire che questo è uno psicomanteum veramente veramente straordinario perché diciamo che sono arrivato anche a delle misure di tipo matematico cioè non inventate ma trovate questo psicomanteum è fatto con un pezzo di compensato del diametro di 42 43 cm con le due con i due tipi di spirale chiaramente questo è bronzo acrilico e questa è vernice fosforescente che quando si fanno gli esperimenti si illumina prima con una lampadina si appende e negli altri video dirò come si devono appendere